E' un attacco premeditato. Chi ha scritto quella lettera voleva ferirlo nel prestigio. Perdoni, professore, ma io non sarei così severo. Cioè, in fondo, qual è l'accusa? Una dimenticanza? Sono stufo di lavorare accanto a colleghi che fanno finta di non conoscere se sono zio o nipote, lo zio ha sistemato il nipote e tutti stanno zitti. Se tutti voi non mi aveste tradito, adesso io non sarei libero e felice. Sono stato io. No, è stato un altro. Siamo stati tutti. Siamo tutti colleghi, non amici. Capito? Siamo stati tutti. Siamo stati tutti. Grazie a tutti